Musica Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Ecco, molto meglio Ok, allora, oggi come sapete dal titolo di questo video Vi farò vedere tutte le mie collane Allora, non sapevo cosa fare Quindi ho deciso di farle tutte le mie collane Perché non sapevo cosa farvi vedere Certo di queste collane non me le metto da... Iniziamo La collana è questa Allora, questa collana l'ho presa in Australia per un dollaro Perché non mi ricordo che negozio era Però era un negozio che non ci andiamo spesso Però stavano facendo i saldi E tutte le collane erano a un dollaro E questa era l'unica che mi piaceva Molto bella, cioè adoro il ciocchetto di neve, bellissimo Poi ho questa collana che, come si vede Io questa collana non me la metterete Vabbè, vediamo come mi sta adesso Ah, aspetta Non lo voglio spezzare perché è molto bella Però questa collana viene anche con un... Come sto? Allora, siccome questo video, secondo me, vi state un po' annoiando Commentate sotto che video vorreste vedere E continuiamo La collana che non so quanti anni fa l'ho presa Però è così tipo Però con qualsiasi cosa che mi metto questa collana non ci va Ok, allora, questa collana qui Se non sbaglio, l'ultima volta che mi sono messa questa collana Era alla cena di classe di fine anno In quinta elementare Però adesso questa non so neanche se mi piace Non la voglio spezzare Perché è troppo bella E non ricordo Cioè questa qui che è bellissima Questo pinguino E poi mi piacciono molti colori qui Cioè c'è bianco, nero e geleste E questo mi ha preso mio fratello in Australia Ah sì, comunque Questi due li ho presi in Italia Questo qua penso che mi ha dato mia zia Con un frontino e un bracciale che sono uguali Però mia zia è in Australia Poi questo mio fratello ha preso a un acquario in Australia Che si chiama proprio Acco Mettiamolo qui Ok Allora, poi abbiamo questa Oddio, questa Non so neanche quanto è vecchia questa collana Però non me la, non me la sono messa tipo mai Ok Poi questa cosa non è una collana Non so perché ce l'ho messa Forse tipo per Natale Eh, non è male Però comunque Questo faceva parte tipo forse di un regalo E poi Poi abbiamo La collana era di una Non sbaglio Questa collana ce l'ho da quanto Tipo Da quanto Cioè Penso che fosse stata Forse tipo la mia prima collana Non lo so Però Non so da dove l'ho preso O chi me l'ha dato Però Non penso che mi sono mai messa Perché come vedete È tipo marroncino È Ha una puzzola Questa collana qui Questa Viola Non so se si vede Forse sembra blu sulla telecamera Però è viola E questo mi ricordo Mi ha comprato mia zia Qui in Italia Quando siamo andati tipo ai mercatini Però Poi si era spezzata E ci ho messo questa cosa verde Però adesso come si vede Non mi va Però è molto bella Poi abbiamo Questo Questa collana Che è di un fiore Però come si vede Solo un petalo È rimasto blu Gli altri sono andati Verde Che è molto strano Perché Questo mi ha dato Mia zia In Italia Però Quando me l'ha dato Tipo io avevo tipo Quattro Quattro anni Penso Tre anni Qualcosa del genere E Era tutto celeste Era molto bello E se non sbaglio C'era anche tipo un'altra cosa Però non era una collana Vabbò Molto bello Poi ho questa Bella collarina Come si vede È metà di una farfalla E qui Su questo Cerchietto Dice B No Aspetta Ah no Aspetta Scusa Su questo Dice BFF E l'altra E l'altra C'era la farfalla C'era la mia amica La collana Che a dire il vero Non sapevo neanche Che ce l'avevo Però questa Penso che Me l'ha preso Sempre Tipo una zia In Australia A una fatina Questa collana Ah Queste collane Sì Questo Sempre Se non sbaglio Sempre all'acquario Dove Mio fratello Mi ha preso Que C'erano Però Cioè Non lo stesso anno Però Un anno Alcuni anni prima C'erano tipo queste rose C'erano tipo blu Viola e rosa Al momento Il mio colore preferito Era Viola Quindi ho preso viola E questo Non so se mi va Però No no Questa non mi va Queste due Allora Ho Questo Dice BFF Con il Cuoricino E poi Poi c'è l'altra Che dice Friend E Forse vi state chiedendo Perché le hai tutte e due Beh Perché al dire il vero Io sono la mia migliore amica E tu dovresti essere la tua migliore amica O tuo migliore amico La collana che ho qui dentro E questa qui Argentata Con i cuoricini blu E questa è la collana più vecchia Però Questa era di mia mamma E non so chi gliela ha data Però Lei Lo amava E poi l'ha data a me E Sì Ok ragazzi Queste sono tutte le mie collane Commentate sotto altri video Che volete che faccio Perché di sicuro Questo non vi è piaciuto molto Mettete un po' di In su Commentate qualcosa Iscrivete Comunque Grazie per aver commentato questo video Mandate questo video ai vostri amici Tutti i vostri amici E vi vedo la prossima volta Ciao Oddio scusate Allora Scusate la voce Ma perché succede? Grazie a tutti i nostri amici E vi vedo la visione Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici